Questo video è un vero sfogo. Allora, voglio sfogarmi con voi su una problematica che ho riscontrato in questi giorni di lavoro e che Adobe Premiere Pro mi sta dando talmente di quei problemi da intaccare la produttività lavorativa e questo ora diventa un problema. Se fino ad oggi Premiere Pro con i suoi bug e con i suoi problemi che sono riscontrati da tutti quanti ed è normale un software che viene aggiornato costantemente non può essere perfetto, non può essere esente da bug tutti i piccoli problemi erano tutti quanti risolvibili oggi Premiere Pro, ieri in verità, ha smesso di funzionare. Naturalmente il software originale, licenza originale, tutti i plugin originali, tutti i abbonamenti originali non funziona più, non mi apre progetti nuovi, mi apre progetti vecchi, ho installato, disinstallato, ho fatto tutto il processo classico che si fa quando si ha un problema del genere. Il problema reale è che quando si lavora e quindi si è, si ha tanto da fare costantemente non ci si può fermare e quindi cosa ho fatto? La cosa più facile del mondo, cambiare programma. Questo è un concetto che ho detto da qualche volta in qualche altro video, di non fossilizzarsi mai su un solo software. Io ho imparato a montare e si monta con qualsiasi programma sia sotto mano. L'unico che è un pochino più ostico rispetto agli altri è Avid, ma fondamentalmente anche lì si monta tranquillamente. E ho dato una chance, un'enorme chance a Da Vinci e Da Vinci l'ha colto al balzo. Da Vinci mi ha, non dico parato il sedere perché Da Vinci già lo utilizziamo nella fase di finalizzazione dei progetti, ma quando montiamo abbiamo sempre montato in Premiere perché Premiere insieme a tutto l'universo Adobe ha una serie di funzioni di integrazioni molto interessanti, cosa che mi spaventavano nel dover montare con Da Vinci. Nel momento in cui mi ci sono ritrovato costretto a farlo, quindi costretto a montare con Da Vinci e a dover integrare poi tutti i file che venivano da Photoshop, Illustrator, After Effects, ho imparato a far di necessità virtù, quindi tutti i problemi che nascevano trovavo la soluzione e cercavo di risolverli. Alcuni per esempio non li ho ancora risolti, alcuni problemi di integrazione tra i file esportati da After Effects, nel frattempo un render è finito, tanti piccoli problemi e tanti piccoli sistemi che sono completamente diversi dai software. Adobe, se tu mi stai ascoltando, ti prego, ti prego, aggiusta Premiere Pro. Premiere è un gran software, io l'ho sempre adorato, stavo registrando un corso di Premiere, non volevo dirvelo, stavo registrando un corso di Premiere intero sulle basi del montaggio in Premiere, completamente nuovo, e non posso continuarlo perché è andato in palla il computer, perché è andato in palla il software, non funziona più, non si apre più. Quindi spero che questa cosa passi e che Premiere si riprenda, esca un aggiornamento che mi faccia ripartire tutto. La mia preoccupazione è che sia la mia macchina, probabilmente la mia GPU, le mie GPU non ce la fanno più a sostenere il carico, allora probabilmente dovrebbero essere dei driver che Apple dovrebbe aggiornare, ma per me adesso è un problema, e quindi me ne faccio carico. E voglio domandare a voi, voi utenti Adobe Premiere Pro, avete gli stessi problemi miei? Cioè avete dei tanti bug? Se sì, segnaliamolo da Adobe, facciamogli capire che devono sistemare. Insomma ragazzi, piccolo sfogo, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, se avete domande e volete condividere con me le vostre sventure di bug, scrivetemi qui nei commenti, se vi volete iscrivere al canale iscrivetevi così da essere pronti per le novità, e già mi hanno dato uno in questo video che presto arriveranno. Cosa altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.